Serra a rischio squalifica, iniziata per la lite con Mourinho. Roma è iniziata stamattina alle 9, 30 litro udienze del Tribunale Nazionale Federale per il deferimento di Marco Serra. Il quarto uomo accusato di frasi inopportune verso Mourinho in occasione di Cremonese Roma 2 a 1 dello scorso 28 febbraio. L'arbitro di Torino, difeso dall'avvocato Gabriele Bordoni, rischia una squalifica. A Serra viene contestato un comportamento inopportuno, ingiurioso e fin anche offensivo delle parole utilizzate nei confronti del tecnico portoghese. La sentenza potrebbe arrivare oggi stesso. La denuncia di Mourinho L'indagine era scattata dopo la denuncia nel post partita di Cremonese Roma da parte di Mourinho, che aveva lamentato un atteggiamento irrispettoso di Serra nei suoi confronti. All'inizio del secondo tempo della partita dell'Ozzini. L'allenatore portoghese era stato espulso dal direttore di gara Piccinini dopo una discussione con il quarto uomo. Successivamente Mourinho è stato anche squalificato per due giornate a causa di quel rosso. Virgola.